E poi ci sono gli oltre 3.000 hotel aperti anche lungo la riviera adriatica da Cattolica e Lidi Ferraresi. Ma c'è un problema però e riguarda il settore del food and beverage del nostro paese. Per i mesi di aprile e maggio, secondo l'osservatorio Asso Lavoro Data Lab, ci sarebbe la carenza di lavoratori come camerieri di sala, detti al banco caffetteria e chef. Si stima un fabbisogno di poco meno di 343.000 lavoratori distribuiti tra figure tecniche e commerciali. E se le prove generali dell'estate passano per il ponte del 25 aprile, l'unica nota dolente riguarda il settore del food and beverage. Secondo l'osservatorio Asso Lavoro Data Lab, nei mesi di aprile e maggio ci sarebbe forte carenza di lavoratori come camerieri di sala, detti al banco caffetteria e chef. Si stima un fabbisogno totale di poco meno di 343.000 lavoratori.